Sera facciamo una cosa un po' diversa, un po' inaspettata Facciamo Fortnite con Ale, con Oracle Intanto vi do il benvenuto video su .ierestwitch, il mio canale Non vi preoccupate, questo primo piano svanirà tra poco Devo andare a prendere il controller, perché non penso di essere in grado di giocare con la tastiera Come dicevo, come ho scritto nella storia, è quasi una prima volta Nel senso che io ho giocato un po' Fortnite su Switch In maniera estremamente amatoriale E quindi, insomma, praticamente è come se ci giocassi per le primissime volte Avrò fatto in totale 5 partite Quindi, e poi anni e anni fa, so che il gameplay di questo gioco cambia in continuazione Quindi, ovviamente, sarà cambiato ancora Sarà praticamente un altro gioco Allora, intanto switcho al gioco Mentre aspettiamo, appunto, Ale Switch al gioco Ok Sentite qualcosa Perché non c'è audio Perché non c'è audio Allora Piazzo la live sul telefono Con l'altra cuffia Siete che sono Multicuffia Ok Questo ovviamente è il pre-live Ok Vado a prendere il controllo Faccio veloce Faccio veloce Faccio veloce Sto scrivendo Ale Sta arrivando Discordio È arrivato No Ho sbagliato Allora Discordio Che è successo? Ok Il controllo è già connesso Quindi Non c'è neanche bisogno di Di fare troppe robe Allora La finestra Perfetto Buonasera 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 Strano che non ti sento Allora Un attimo Ora si Perfetto Mi senti casino? Senti qualcosa? No Sento abbastanza No Perché Mi da Mi da sempre la cosa Accesa Insomma Se sentivi casino Il computer Prova a pararmi Prova a pararmi Prova a pararmi Prova a pararmi Ancora Ancora Vai Perfetto Vai Perfetto Perfetto Vai 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 Ovviamente C'è sempre I soliti momenti Di tuning Allora Intanto Ti mando Allora Allora Io sono In terza persona Con un personaggio Donna Che Sta camminando su un'isola Ok Sì 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 È l'into Quella è l'into Ok Perfetto Vai dimmi Mi metti chiami Ehm Come mi chiamo Credo Ierias Perché Non mi ha fatto scegliere Il nome Ok Con x60 Hai due Vabbè Aspetta Aspetta un secondo Che qui c'è un errore E poi c'è un errore Sì Ti è arrivato Mi è arrivato Non c'è una di testa È Ricetta Una ricetta Una ricetta Medica Sì Medioe Esatto Sei nella lobby Della battaglia reale Sì sì L'hai fatto Ad aspetta Sei nella lobby Sei dentro Eh Nella lobby Nella lobby Nella lura Aspetta Devo sentire se ti si sente Ti sento un po' basso Ti si sente un po' basso Ma ti alzo Parlami Se no ci sta che sia anch'io Aspetta Sì sì Vabbè ma è uguale insomma Tanto ti posso alzare tranquillamente Ok Perfetto Beh Io posso riabbassare la line Se no è pazzisco Per doppio audio Cioè vado per correre? Eh non lo so Sta camminando molto piano Molto piano Si basso le ova Ok Sì Credo di dovervi una spiegazione Negli ultimi anni ne abbiamo passate tante E ci sono altre cose che non ricordate neppure Avete tutti combattuto con coraggio Ma finchè non libereremo il punto zero Ci saranno sempre minacce come l'ultima realtà È peggio Non potremo sfuggire Ecco perché dovete aiutarmi a distruggere l'ordine immaginario Finchè continueranno a sfruttare il punto zero Tutto sarà in pericolo Con il vostro aiuto potremo liberarci da questo posto È che ho pigiato Ho pigiato un tasto Scusate È andata È sparita Eeeh mi dispiace Ah no Si è venuto qui a dove è tocca Beh guarda Ecco Allora La battaglia è nuova Grazie Ci sono Perfettissimo Allora Abbasso Fortnite Che è sparato a mille E tanto che non ti sento Doparli Audio Mixer Vai Perfetto Perfetto Allora rimandomi l'invito Si Perfetto Allora rimandomi l'invito Perfetto Allora rimandomi l'invito Perfetto Come Perfetto Bene Perfetto Perfetto Vai Perfetto C'è gli animali da uscire per fare cose C'è i vari missili e incarichi giornalieri che cambiano ogni giorno Ci sono le schienze di Arkane Le schienze di Yokai Mi sa che lo metti pronto o non si può fare? In attesa che io hai in assistenza Ok ci sono, a squadre si fa Un posto grazie Era quello che volevo Che è successo? Allora io vi vedo che sto mangiando un pezzettino di schermo Questo non va bene Ecco magari vi mangio in cima Pfff che parla aspetta Ok Eeeh Ok Non può sbagliare perché se lo saltavo e sbaglio No Aspetta anche te Eh si Come si fa? Eeeh X Ecco Ok Tieni i più muti in avanti per scendere più velocemente Raggiungi il terreno in fretta Allora te dove sei intanto vediamo dove sei Eccolo la Vai nella cittadella? Cioè nella cittadina lì Si Oh ma c'è un sacco di cento Eh vabbè Dice Eh forse Ok io intanto seguo te Stiamo uniti Non ti peredici Ma Io intanto piano piano sto scendendo Olè Allora Ok così si colpisce Ok questi sono i punti devoli Bene Perfetto Ok Ui Paura Allora Ti hanno imprimuto Ehm Primuto cosa? Eh non c'è scritto il tasto Vabbè Ho raccordo delle luciole Vabbè Tre miei ospoli che non potrei segnare Non c'entra una posizione Vabbè basta suggerimenti imparerò via via dai Sennò poi Sennò poi Allora Oh c'è una bestia Eh si T'ho detto come va Perfetto gli animali Ok Ehm No 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 aspetta Questa è la costruzione Questo è il contrassegno Questo è l'inventario No Ho fatto un balletto Scusate Questo è per colpire Questo è per le granate Ci sto riuscendo eh Allora piano No questo l'ho già preso prima Come si corre? Penso che ha un fuoco Si ok E' un'autocorsa Si 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 Perfetto Ehm Valentino Rossi 46 Lonzo Mi sa che non Ehm Ho raccolto un fungo blu Però non ho armi io eh Cioè sono Non hai armi? No disarmato Ehm Vediamo se lassù magari c'è qualcosa Ti 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 asciola Cosa? Ah Grazie Ehm Un poescilino Vecchio Questa è la granata Ok così si mira E così ci si abbassa Perfetto Andiamo a dare una mano a Sriatov Che Appunto si sta moriti è meglio Poi dobbiamo imparare a costruire Quello male è la vita Che è impresa Di Tania Oh che cazzo Non c'è Ho cacciato Non mi vestire Mi sta chiedendo di salire Aspetta Oh Cinghiale Vabbè Stanno mi spaventando Mi sa Ci sgamano però così Ah fungo scudo Quindi questo mi sta Quindi Volevo usare Mi dà lo scudo Ok perfetto Qui c'è una cosciotta Ok ho quattro cosciotte Oh oh Sono io Ah ok 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 Come nella vita Andiamo Esatto Io sto spaccando I gabinetti Niente Aspetta scrivi il mio numero Io non uso le porte Mi apro delle brecce Ok Mappa Siamo perfettamente nel mezzo Sì 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 Poi si è fatto casino Sì che Secondo te ci sono subito I giocatori Oppure 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 la prima partita E con i bot Poi facendo la partita Poi facendo la partita Ieri sera Non meno che a posto Dobbiamo uccidere Batman Sì Dobbiamo uccidere Batman Per ridere Però sì Oh ci deve essere un tesoro Da qualche parte Sento rumore di tesoro Ambrosiao Eccolo qua il tesoro Un gabinetto Pizza party Non puoi sapere Cosa è pizza party Ah qua di scordi Che cosa fa la pizza Dagli scudi Ah Ottimo Da un po' di scudo Non la posso usare Ah la salute La mia salute è già Ah forse lo scudo 60% Ok E da un tot Sì sì Se avvicina Da solo 50 Non da più di 50 So che ho preso Un fucile a pompa Cazzo di idea Di quello che sto facendo Ma va bene Sì 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 Oh c'è un getto viola Un trampolino Ho un'altro forziere Qui Niente Checchino E le vende Sì Checchino C'è un arma blu Cretino Insomma ha sparato a San me e ha fatto entrare un corpo Fuscile Qui c'è un fuscile pesante automatico Come si indica Come si indica Il fuscile è stato reggere blu Così Dovrei averci Ce l'ho già Bene Ok Oh top 25 Sì sì palosalmente Alla prima Ma non si incontrava nessuno Qui questo? Ah ok non ci sa La scheda del nostro amico C'è una tenda Abbiamo una tenda abbandonata Sì non so cosa serve Probabilmente per... Si è livellato Si è livellato Puro parazzato C'è degli spari in direzione Eh non lo sto smettando Eh devi guardare la mappa Si rifallini rossi Ah ok Oh dell'oro Scusa Dove sei? Ci compri le cose le macchinette A quanto ho visto Ok Ci sa che mi sbaglio No no ci sta Probabile Probabile No 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 Abbassa Mi metto anche l'altra cuffia Perché mi serve l'audio polifonico Tra l'oro Una tenda Un altro tesoro Uscite dal cecchino verde Oh mi sparano Mi sparano Come cazzo faccio? Ma che cazzo Ok morto Grazie Mi hanno nascosto nel cestino Eh? Mi hanno nascosto nel cestino del sud Diciamo questi bagli Stanno facendo bellissima Tutto meno eroico Mi hai sparato te Mi hai salvato te? Sì Quello che ho sentito L'ho buttato un te Sì 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 L'altro l'ho fatto Allora quindi Oh 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 Madonna Quanto non Sono in grado Oh dove dove? Eccolo Bella Morto Oh mi sparano ancora Eh siamo in una zona Proprio aperta Eh sì Ci sa Oh la tempesta Eh sono morto Perché C'è uno Qui Charlie qui che mi stava sparando Ho ucciso Dove è Via top Vieni qui Vieni qui Allora quindi devo mangiare la pizza Cazzo Sto gioco Bellissimo È geniale Allora quindi adesso mi metto dietro la roccia Ah c'è la Oh 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 Allora mangio la pizza Che mi dà la pizza Eeeh Ok ok ti ho visto Ho ucciso Harley Quinn Ringgi Buono Sono facendo un macello Sì non ho una idea Di come sia possibile Sipalletto on terra Oh no Sipalletto Mi fa comodo Andiamo a salvare Sipalletto Eh sì Mi segna così Così mi usavo Io Attento mi raccomando Eh sì sì È il troppone grosso Quindi mi sa che Eh siamo anche però vicini alla cosa Un piccolo richiamino Mmm Eh non so È un po' un problema Eh no no Certo lo salviamo lui Se è possibile C'è anche gente Eh forza Mi fai male Perfetto Non è acqua Eh no Però c'è la nebbia Non so Mi ha salvato Eh boh Ci vuole un pochino Aspetta Ah è già dentro la nebbia Si muore anche noi Vabbè Portiamolo alla vittoria Oddio Ok niente La mia è caduta C'è una gallina Non so se è possibile Va se la andrà più veloce Ci informeremo Perché Si vabbè Chiederemo alle autorità Con quei tempi Tt Tanto bene E se n'è andato Si Troppo Abbandonato Eh vedrai era Troppo Vieni vicino Vieni vicino a me Vieni vicino a me Vieni vicino a me Sì 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 Ok ricarica lo scudo Sì Tanto mentre si aspetta Che Ah arriva fino Più di sessanta Vabbè Sì che fa 100 Però questo ci fa tempo Eh no certo Andiamo perché c'è la nebbia Sì 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 Ok Oh top 8 eh Oh mi sparano Mi sparano? Sì però non mi hanno preso E' di qua Aspetta No Ah vedolo 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 Ah i colpi hanno la caduta Sì Oh Uuuuh Preso da più di 200 metri Attenzione Eh, no, arrivo, arrivo veloce Perché c'era, stava combattendo quello che ho ucciso io Ah, ok, ok Quindi ci sta che ci sia un avversario lì nel vintore Ok, però siamo anche a fine dell'anello Sì, infatti Occhio alla casa Eh sì, c'è uno laggiù, infatti Ok, gluteo Vicino al monte Qui c'era il monte, c'era uno, eh, ti allo... E ne ha tesoro Come si fa, perché... Siamo nell'anello Ok, sì, visto, 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 visto Vediamo se riesco Lascia lo star, lascia lo star Eh, lo so, però, mi sa che... Eh, mi ha visto, sì, sì Sono due, eh, lo dico Eh, sì, sì, sì Ok, una in terra Lo buttavo sull'oba Vai, preso Ok, sciapo, sciapo e glute, sciapo e glute Sì Top tre, eh Cioè, siamo arrivati io, te e un altro Sì, praticamente, sì O sono tre squadre Ah, no, no, lo so Eh, non lo so, eh, la sua propulsione Però sono un po' ferito Eh... Ce l'hai apura? No Sennò te la do, veniti Aspetta Ok Grazie Sì, sì Oh, c'è la cosa Merda C'è la, la gabbia La, sì, la gabbia La, la nebbia Ah, la gabbia Sì, sì, sono Ho preso poco Ho preso poco Ok, ci sono Non puoi dire Ti ammazzo se muori No, no, no Ti puoi vedere Allora, ok Qui stiamo dentro Lo scuto mangia i funghi, posso? Sì Ok Piano, piano Eh, io c'ho un gruppino Non so se provare a vicinare Perché non ho paura E' raso, raso Qua c'è un fucile di orte Di interesse No, tanto c'ho Però Mi sa che è sulla collina Cioè, solitamente Le batterie affiniscano sulle colline Sì, sì Ora ho protegito Esatto Io ricarico le mie armi Ok Che c'ha? Perché c'è un barile statico nel tempo? Un barile statico nel tempo? Sì, lo vedi? No, non vedo Ah, sì, sì Eh, perché no Lo vedo, lo vedo Lo ho visto A te Tu pensavi barile No, sai Vedo un barile flutturato No, no, sì, sì No, c'hai ragione Eh, vabbè, forse C'è una volta che sto fermando Le stagioni del tempo Eh, no, no, certo Quindi La tempesta Si sta giocendo Te sei Sì, te sei full Scudo Sì, sì Per fortuna Sì Eh, nulla Stiamo fermi Ehm Boh Stiamo attenti Perché la fortuna ci sorrida Intanto sono soddisfatto Insomma, alla fine Oh, le luccele Ma cazzo Ah, ok, ok Le luccele danno Beh, cazzo Oh Dove, dove, dove Ok, visto Ok, così anche Yes Oh GG, cazzo Da prima Come si fa a fare le moto Eh, non so Così Così, no Vabbè, ho vinto Eh, vabbè Vabbè, ho capito Bellissimo GG Oh, yeah Fieri Madonna, ho fatto un botto di incarico Che ho fatto Eh, vabbè Vedrai Eh, vabbè Eh, ragazzo Eh Non abbiamo mai vinto Apex Se vince a Fortnite Sì, davvero Davvero Ora Bravo Mi sembra più difficile Apex Eh, devo dire Però non ho visto l'epilogo Quanti, quanto ha fatto Eh, non so C'era bene No, il copyright No, non ci avevo pensato Via, via Di Fortnite Copyright Eh, no Le canzoni Ah, che c'è il 6 su Ma io scrivo Trevi e scotte Non so Non so che fosse Ok, siamo Orfarci E Anna di Armas Ok Anna sta in segna Orfarci Dobbiamo saltare Boh Non lo so Non lo so Ti ringrazio L'autista Sempre Io invece ringrazio Maker Player E Tina Riff Per Tina Riff Tina Cicollari Tina Cicollari Come si ringrazia L'autista Siamo a bordo Ah, ok Andiamo Andiamo La neve Ora si brilla Perché abbiamo vinto La volta scorsa Certo Qui sparano Ah, tu sei Ah, sei Ah, sei Mi rimasto solo Sì, sì Era uscito fuori Focosito Merda, quanta gente Eh, c'è pieno di gente Vai verso destra Vado qua Guarda Vado Qua Ok 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 Andiamo ancora A imparare i tasti Give it to me I'm working Give it to me I'm working Oh, sei No, un trampolino Ah no Sono delle ruote Ok, nota Puoi rimbalzare Sulle ruote Sì, me lo ricordavo Non so perché Ma lo sapevo Si fa a saltare Ah, era un curatore Di minaccio C'è lo scuto? No Come si droppa? Zaino E io gioco un controller Zaino, sì Anche io c'ho i controller Ehm Allora Rila quadrato E X Quadrato C'è un tesoro Rimpiamoci un attimo Ah, manco Vandalismo E poi quando si vuole Si va dagli altri Però io sento il rumore del tesoro Forse è solo Qui puoi potenziare le armi Ah, con i lingotti Però costano lingotti E tutti i tieni Tipo qua Ah, eccolo qua Ok, fucile d'assalto Succo trangugio Vita Ok Oh Ah, qui c'è la benza Ok Qui c'è un distributore di vita Madonna, è diventato veramente complicato Qui c'è i cosi E si salta Ah, l'arma si è già morta Ehm Cerchiamo di riunirci Ma vabbè Prende la macchina? Sì, la macchina Eh, perfetto Vai Sì, sì C'è la canzone Che E non posso Sì, si Parle, pare Perché Prende la prima le basse Sì, vede la prima le basse Sì, vede la prima le basse Nell'acqua ci andrà Nell'acqua ci andrà No, prima Non si sa che c'è anche gente No, non si sa che c'è anche gente Eh, l'arma si mora Dovendo raccogliere il suo tag Ma c'è uno squalo lì Sì, c'era uno squalo Che amo sta macchina? Eh, sulla neve Sì Doveva essere vicino Sì C'è un ponte 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 sono rischio Mi ricordo in Più BG Era non Monti erano Sì, perché ci sono anche i collezionabili in mezzo Certo Certo Perfetto Ieri ho trovato una registrazione Questa è una registrazione di una storia Sì Raccogli la scheda Siamo a 260 metri Ok Non mando andare Madonna che fatica sta macchina Sonic Sì Vittu 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 Eh, non lo possiamo fare Ok Aspetta, poi usciamo Cimitero Esatto Siamo a 41 metri da Dana Recuperò il suo pippolo Eccolo Vai Raccolto C'è un cecchino Se vuoi Ehm Ce l'ho Dai C'è un pg qua dentro C'è un cavolo Eccolo Una pizza C'è la pizza Pizza Pasano a 10 Vai Ho preso della pizza Non ne posso mangiare di più però Non ne posso mangiare di più però Cavolo C'è del cavolo Sì C'è anche la pizza No scusa ho sbagliato Ah la può portare dietro la pizza Sì Allora dobbiamo trovare il segnalatore per risuscitare Ana Penso sia quel coso lì a forma di restart Mi sa Ok Può essere Sto andando adesso Buona intuizione Posso fare anche io Posso fare anche io Vediamo Posso fare anche io Oh perfetto Per i tempi sa chi mi puoi dare una mano C'è sento una macchina Sento una macchina Sento una macchina Sento una macchina Ok 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 Eeeh Eeeh Ho fatto il balletto Ah qui c'è un medic hit Ma ne ha... Anniate i loro join E non si muove Bene perchè è cambiattrice Sì Ogni volta che non veniamo Oh oh Madonna che paura C'è un cignino Che palle Mi sta attaccando E' un cignino Oh c'è un tesoro Stavo ignorando Anche Io lo sto andando a quell'altro E' un razio chiede E non c'è più Non lo vedo più in party No no Però c'è un buon c'è un puntatore lì E chi è cacciato Un miei Va bene Arrivo Eh mi sa che Annias... Ah no ok c'è Tornata Ciao Forse non ci... Non ci crediamo No il bagliato Non volevo fare... Non volevo fare il balletto Io non ti dirò il tuo trovato Però almeno No Io lo sei Ok si ho visto ho visto Cosa hai trovato? Il tesoro di Pablo Escobar Infatti la mente si Ah qui c'è della roba Ehm... La rima No Ok Ah una pizza Nooo Sei Spider-Man Hai trovato di lanciare a natele? Trovavo si quanti... ...di lanciare a natele Stanno molti gli utilizzi Un po' a scala Ah hai capito Ehm... Non ne fai abusare giustamente Certo certo Ti sento sparare Ti sento sparare? Si da questa direzione Ah ok ok Si Vero 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 Eccolo la Aspetta Mi sa che è qua L'ho visto io No ho sbagliato Vai 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 Allora Ammazzato? No Nato Presto Fermo Non è stato forte Se ci fermi Ma che ci fermi Cicci fanno Oh 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 Ah Altri? No 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 ho sentito Ah ci sono Però c'altro rispario effettivamente Eh Si Però le nostre spalle eh Quindi dove' è... Dalla direzione di Anas Senti Allora, quando corri se premi quelli crouch e scivoli, come so Si si, l'ho visto, l'avevo visto prima L'hai visto? Oh, ma c'è la cosa, merda C'è gente lì alla compa, eh Eh, lo so E' che c'è anche il... Ehm... La... La nebbia, insomma Ah, l'anello Ok Eh, vediamo qui No, vabbè scappa Eh, la rialzo lei Ok La facciamo? Si, si, si Sto prendendo la mano, mi so La rialzo Ma vuoi che non c'è un cazzo, amico Perché siamo all'inizio Macchina, 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 macchina Macchina, macchina, macchina Si, si fa... Ehm... Un triangolo, le pilarate Ok, fatto show Eh, perché non so guidare Allora, aspetta Ma potresti lasciare guidare a me, no? Ehm... Foga la concentrazione Le emozioni L'uovo del calcio Ma è scappa La DeLorean Stanno scappando Ok Ci sparano Mi sa... Mi sa che forse ci sparano Ci sparano Deve cazzo è? Si Si A terra Ma mi sa che c'era un altro Oh, c'è un colpo C'è un altro qui, c'è un altro qui Uno alle spalle Fa male il cuore Cazzo Merda Merda Si Si C'è un altro, neghi C'è un altro Merda, merda Perché c'è un colpo? C'è un colpo dorato Cazzo è la ultima Ancora 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 C'è un altro qua, c'è un altro qua Merda mi sta sparando Merda Aspetta Mi curo Prova a curarmi Si Oh no, ci sta rigenerando Oh merda E' qua, è qua, è qua, è qua E' qua, è qua, è qua Ho visto, ho visto, ho visto Ho visto Si Bella Ma c'era un altro mi sa Si Ancora Si, laggiù Vicino alla casa Desca Non lo vedo Ci penso, ci penso Eccolo, eccolo E' qua Si, sta venendo a prendermi E' dentro la casa, vicino al colpo GG E' nato? Si E' eliminato Buona santa Ragazzi Siamo i corpini, eh Mi sta piacendo sta cosa E' una cazzo vita, però Che fate gli scherzi Eh, neanche io C'è, io per fortuna ho il Meritit Tra la gente ci siamo fatti o non c'è niente nessuno? Non lo so Ragazzi Abbiamo ucciso 300.000 persone Mi sembrava di aver visto prima Un... Eh... No cazzo c'è lo scudo già C'è la... C'è la... Cosa Anello Eh... Tana L'ho trovata una pure bomba Vediamo C'è una a destra Una a destra Cazzo A destra Sì, sì, visto 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 E' che ho mischilcato come sempre E... come sei Vai preso Un altro totalmente a destra poi Preso preso Un altro eh? Ehm... C'è un indicatore che c'è un'altra persona Sì 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 E' che... Sto un attimo andando Fermati un attimo, fermati un attimo, fermati un attimo Sì Ok grazie Ah qui c'è un altro... Anche qua guarda Bella rispondata Oh! Qui c'è un monte di roba C'è un'altra persona che parte Eh sì Ehm... Hai sentito farla due volte Mmm... No! Sono bloccato con l'anello Grazie Ok 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 E' che fa casino E' che fa casino E' che fa casino E' che fa casino con i tasti capito? Ancora non devo prenderci la... Vabbè è normalissimo Sono da partite Stavo facendo E' vero sì Curati Ho un corvo viola lì Sì anche prima me ti stavo guidando Ma che cazzo era la ultimate di... Di Super Smash? Mmm... Non sono anch'io ulpibili L'ultimate di... Di Bloodhound Sì esatto Sì esatto Certo Forza No io ho fatto qualche kill con il check-kino eh Devo dire Prima della partita precedente Però ho fatto i die... I die... I die... I die... I die... Non è male Lo shooting è interessante Sì esatto Siamo rimasti in tre eh Sì esatto Sì esatto Beh... Eh... Eh vabbè... Proviamo a salire sopra... Qua sopra... Poi almeno ci sa... Però non so come si fa... Ah vabbè io vado solo su questa casa qui Questa casa qui Sì esatto Andiamo... Aggiorniamoci Mhm... Sì esatto Noi... Sì... Sì sì... Non so come si fa a salire sui piani superiori Ah forse con le costruzioni Costruisci, puoi costruire effettivamente Ci si scola sempre nella meccanica Che ca? Nota audio, ah un collezionario Costruisci qualcosa Abbiamo vinto Perfetto Ragazzi, cioè la classe non è aperta Poi amm... Siamo tornati in scorsoria Vediamo le statistiche 5 heal, 0 assist, 22% di precisione 2 headshot Vediamo Vediamo Scusa sempre di colpa Scusa Però cazzo è divertente Ah secondo me Secondo me sono giocatori particolarmente nabbi Per farci Lasci stare a fare scherzi Per farci divertire e continuare a giocare Sì sarà un miscuglio NPC Giocatori E bambini che hanno fatto giocare Ora giocamente Sì 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 Boh la pistola Non tocca shoppale skin Come? Non tocca shoppale skin Ci stanno divertendo troppo Certo Quando vuoi mi lo dici Ma sto dici sono già saltati Come sempre Mi sono già Sono già a livello 5 Tanto Cioè In due partite Mi sa Bello l'arcipela Guardiamone l'arcipela dopo Qua Qua Saltate Saltate Sì Vabbè C'è una statua Ah è quella La statua quella del tizio del video Sì Riderò Ok Ok Voglio andare qui sotto Nel suo bunker Sotto le palle Sotto le palle Sotto le palle Sì No c'è una corrente No Una corrente ventosa Andiamo lì a A Cia Porta Sì La Kame House? La Kame House No Mi sta la Kame House No sì Sì Mi le manderà Ma no Ti hai a forza anche Non so Io sono qua eh Nel momento Che sono anche gli schi di Dragon Ball Sarà un problema Beh È solo questione di tempo Sotto 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 Ho preso un collezionabile Non lo sanno anche te No non lo sanno No non lo sanno Ti arriva il fatto che ti fa trovare per forza quello che ti manca Eh Eh Meglio Ok Sì La stava per trovare secondo C'è un tesoro che parto Non c'è un grande Mi può sicurezza non è vicino ah eccolo ok ok l'uscita d'assalto tra il dispositivo una missione ah uno dei nostri è a terra un'istoria una tenda hai trovato la tenda? benissimo è la fine mi toccherà pantorna dei witcher per giocare a sto gioco mi sto divertendo troppo è un problema eh si quanto siamo fuori dal cerchio? voce dal buggetto rosso questa è la casa di vestigio palese molto siamo abbastanza fuori ok ti puoi anche un tra gli NPC c'è un companion ahahah ho trovato il companion c'è un tizio che mi sta seguendo eh andiamo là si c'è una barca intanto ovviamente vedo una sega ehm nemmeno io c'è una mani in piedi nessuna è nulla troviamoci di là andiamo un po' dove? c'è uno scafo no lì c'è le... c'è un mottio schifo porco dio spana anche i razzi non so schifo ok ti ho trovato la pizza arrivo eh si lascio i miei pc laggiù no bello si trasporta anche salve salve a lei mi sa da prendere e portare via porta la via futurama cosa devo fare no bravissimo madonna ma molti mi scusò ho posto per favore come? monta qui ah scusa aspetta come monto fisicamente o? ah no c'è uno straleato no c'è uno straleato ah no è il tuo compenio no ok ok lo conosco non lo conosco non mi fa del lavoro ok dovremmo essere vicini andiamo qua si lo tozoro sulla barca qua ci si fa un uovo guarda il fiero vedi cos'è la devozione mi ha messo mi ha messo mi ha messo un po' di lingua certo credo si è fatto fedelo ok ci vogliamo un jedak posso nascondere dentro i jedak no i jedak è la fiocci ne ho trovato c'è un'altra tenda qui stai sapendo stai sapendo stai sapendo stai sapendo io non so che cosa serva a qui se ti entri dentro i ucli di lì no non so penso di si tanto andiamo in là però andiamo verso gli altri vorrei trovassi cosa attaccai non te lo sa ok ho visto un panino rosso qui c'è delle costruzioni che c'è stato uno scontro spari verso ASO ok 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 stai sapendo stai sapendo stai sapendo stai sapendo mi buttavo su una stai sapendo avessi preso una volta no c'è una ha una scuola enorme c'è altri si si ah bello che incapo bella si aspetta 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 che non c'era buonissimo vieni da mamma dove sei? no a riparare davvero a curare lui la fioce fucile a pompa strada grande ah qui c'è la cura cura bomba ok lanciala aspetta e la cura ce l'ho dalle a lui vai da voxie lancia l'hunter su lui è rotto non è mai in giugno è il protagonista di fortnite perchè è così? eh? lui è il protagonista di fortnite di ui cimi fontana ma guarda c'è un protagonista fortnite il più biondino classico americano diciamo che la figura principale di fortnite non sape c'è un ipid cioè quello che usano per le storie sono oh io sono io proprio non so non c'è mia che c'è qua? delle taglie il rimino è un giocatore nemico solo in questa partita ok pari non so dove ho sentito io non so dove sono accetto come si accetto? ho la pizza attenzione ecco c'è ora io non sono benissimo equipaggiato devo dire stiamo sparando al nostro amico si ho fatto l'assurdo non sai li facciamo bene? almeno io c'ho un arbre e basta eh non ho munizioni più che altro non hai munizioni guarda un po' mi torna muoviamoci verso cambiata eh si mi sa oh aspetta qui attenzione a quello c'è anche la fangherà si 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 taglia a fallire taglia a fallire taglia a fallire sì ehm andiamo verso massimo massimo high speed ci sono delle statue moai non ho idea ah minchia sono lontanissimi dall'anello eh si questo gioco è andato a fuori non mi porto niente a nessuno c'è nelle mappe perché tanto più bello è che le quali ti fanno anche gli amici si dire una sofferenza che fa le cose eh si madonna 14 spara spara al tizio con la pioggia la ultimate assicurati se c'è il sole non va bene se c'è la pioggia forse c'è uno mi sa che mi ha visto vediamo se col cecchino riesco a un po' scoperto non mi sembra il caso e l'ho visto proprio qua entro qui merda merito companion perché ogni volta mi fa prendere sti colpi chi è che sta smantellando cosa smantellare sento passi Ale però non capisco da dove da da 100 da 200 anzi 197 la direzione direzione si si è qua è qua 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 non c'è non c'è la c'è la città ma c'è la città dove sta andando l'ho fatta buttarla giù però sta buttando ok posso trovare le spalle solo o assicur non sa se che non so cosa da segnalare sei mano suffocato super gestione acque Questa cosa fare No, non vogliamo Con la sinistra si segna Un sinistra, che è di fa sinistra Qui c'è tipo una gara, un rally È una pista da rally Eh, si, Speedway Si, si Sta ballando, va bene Ah Il più bello sono gli effetti sonori Sì, il più bello è il più bello Le banane Merda, che paura Ho preso un Copertone e ho fatto il salto Sì, sì, è che non me l'aspettavo Ah, è vero C'è il corvo, guarda, ancora Non sta mica tanto bene sto corvo Oh, c'è uno Starlet Cazzo, si fa Ok Non ci sa? Sì, sì C'è uno In detta reale C'è un Batman C'è un Batman C'è un Batman Mi piaceva una russia Quindi C'è un tavola in terra Viva, eh Cazzo Bella Grazie Per la mia Qualche scudo Ehm ce l'avevo, però li ho usati per curarmi C'è uno! Uno, che c'è? C'è un ferro, c'è un altro davanti C'è un ferro C'è un ferro C'ho visto, ce ne sono due altre Cazzo Cazzo Abbiamo vinto, abbiamo vinto in落 Ahahah DG Madonna che casino Ho preso un 3 Bella, cazzo mi piace un sito Cazzo Io non so stavo 1-2 Con quadrato dai 3-4 6-1-1 6-1-1 6 eliminazioni, 1 assist, 1 rimane 4, ci sono i 28 Forti, forti Forti Ho fatto 1 ora e 6 minuti Bella ci sta Perfetto Buono, buono Beh, è tutto bene Ma Ho vinto un saco di rosa E dovrei metterlo Un'ombrella ho trovato Ho trovato un'ombrella Sì Ma c'è un altro anch'io Poi c'è anche il Stigurese Vediamo a negozio oggetti No, non ho fatto Eh Non c'è Non c'è la spalla E lo trovi nel pass battaglia Ovviamente Adesso non passa Ahhhh Sblocchi al... Sblocchi alla nona pace Ora Adesso non c'è una Si L'aliente di... di dove Sf Sf Troppo Dove ho ecospato per la positiva Oh, è il mio Tecware è troppo a me, ma non c'è che c'è C'è te rocca, ragazzi Altro respire Fortnite guy Fortnite guy Sì, posso aprendizzare tutto con le fiamme Non so come mai, legano le skin Sì, sì Oh, no In giornale ero per le fate Non ho problemi Manca queste osine qui Non so come funzioni la cosa, però non voglio fare domande Ti faccio missioni di storia, ho capito Ma, vedi incarichi, incarichi stagionali, sono missioni No, non vedo gli incarichi Ah, ok, ok, sì, ho trovato Eh, con... Eh, sì, sì, sì Ok Ok Beh, buono, piova a me Vai Sì, sì Grazie per... Ma di nulla Non ti fa così, poi mi garbacca di più Eh, sì Ci sentiamo alla prossima Dio, non ti vio Ciao, ciao Ciao Ciao, ciao Ho chiuso il fuoco Metti il fuoco Metti il fuoco Ok Beh, è stata meglio di quanto pensassi Aspettate, chiudo Anche Discord Ok È stato meglio di quanto pensassi, devo dire la verità Vabbè, Fortnite Comunque è un gioco abbastanza carino Più che altro direi proprio la mia manualità La mia mira, a parte l'ultima sfida Devo dire che... Sì, sì, mi sono sorpreso Mi sono sorpreso Poi vabbè, tre vittorie su tre, cazzo È stata... È stata bravura Non lo so, forse anche fortuna, insomma Di trovare dei nemici non all'altezza E... Sarebbero le otto Che si fa? Ok, ci sarei ancora Che si può fare? Ah! Spero una cosa Ho comprato su Amazon La... La Capture Per la Nintendo Switch E quindi Probabilmente Se arriva entro venerdì No, dovrebbe arrivare entro venerdì Probabilmente faccio leggende Che sto aspettando come la Madonna E quindi dai una serie intera Di un gioco che Che praticamente mi terrà incollato Incollato per un mese Forse anche di più Quindi Sono stracontento e fogato Per questa cosa Che potrebbe fare? Si fa una partita in a Yu-Gi-Oh Facciamo una partita in a Yu-Gi-Oh Dai Cambio E faccio una sola Ti sta odiando Ti sta odiando Non c'è Non c'è Vedi ancora non sono c'è Ehm Devo... Devo sloccarmi dalla friccia Anche大 Ti sta odiando Ok Che non lo stai atturando Ok Prova, prova Perfetto Ho portato qualche modifica al mazzo alla nera Poche, eh, in realtà E ho finito le partite Quelle Quasi tutte, in realtà Quelle solitarie Quasi tutte, mi ne manca un paio E poi I mazolei, insomma, le cose Questi Facciamo subito questo, va Che ora degli elemi in sciabola Sblocchiamo questo Facciamo questi due duelli Così poi Porta anche un po' di completismo Allora, speriamoci di rire bene Perché se questo mazzo gira Si parte subito alla grande Oh, cazzo, no Erano loro Quelli stronzi Sì, sì Vabbè, vabbè Non c'è più S'affronta, s'affronta Allora Allora Cazzo non mi serve Cazzo non mi serve Sto ragionando, eh Gail Esci ora Arriva Maestro armatura Nice Questa posizioniamo là E si va all'attacco Perchè non l'ha distrutto? Perchè non può essere distrutto? Ah, ok Non può essere distrutto È l'effetto suo Non era l'effetto della mia E quindi non si attiva Va bene Non si attiva la balesta Ma non è un problema No, però Allora, aspetta Tutti i mostri e controlli guadagnano Pagano numero dei tributi diversi Nel tuo cimitero Una volta per turno puoi aggiungere Il mostri di una sciabola Ma assalta la battle phase Nel prossimo turno Aspettiamo L'attacco Bello Dio Cristo Bestialata proprio Tra l'altro Un'altra Sì Tipo 6 e 3 questo non può essere locato questo farebbe un 7 però non va non va al suo vantaggio 7 e 3 e 10 io ho un 10 si kill perchè non mi fa ah 369 che figura di merda va bene va bene va bene non è un problema dai no ti batte va bene va bene perchè mi è venuto 10 non cazzo fai non cazzo fai non cazzo fai devo solo aspettare ma sto giocando male no cazzo fai a ecc euro e ma la sto giocando male via ora servirebbe pori alis vento del nord non serve a niente purtroppo purtroppo non mi serve devo passare devo passare mi paga il culo con un altro turno mi paga il culo con un altro turno il culo con un altro turno il culo con un po' di coro ma la scuola non mi pegue ma la scuola non mi pegue non mi pegue ma la scuola non mi pegue mi pegue Va bene Ma perché il ratto gigante A 2008 di vita Ma che cazzo è sta storia Eh no Non è andato bene L'ho giocata di merda Perché poi lì Il discorso di 9-10 Lì ma proprio M'ho andato fuori stara Ci riprovo Già meglio Già meglio Grazie a tutti Ma che cazzo è un po' di Ma che cazzo è un po' di Ma che cazzo è un po' di Non c'è da giù ho una strategia, guidatevi trust the process battene a fare in culo, ovvio vedete conto che cazzo di carta è quella oh, è questo è questo è questo, è questo 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 adesso mi rifaccio ok questo turno è stato buono beh wait non mi da tempo di reagire gli effetti vabbè non bara ovviamente però cresso addio si si volevo leggere questo se questa carta se questa carta è stata evocata lì utilizzando uno più mostro di livello 7 superiore il tuo persona non può scegliere la mia persona degli effetti delle carte non può essere restruta dagli effetti delle carte del tuo persona se questa carta restrugge un mostro della persona di battaglia no auci auci no questo la tengo in mano oppure no non 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Il torino può scegliere come bersaglio con gli effetti delle carte. Non può essere distrutta dagli effetti delle carte. Quando questa carta distrugge un mostro... Quindi... Non c'è scritto da nessuna parte che non possa attaccarla. Bella, bella partita. Veramente una bella partita. Questo mazzo non ha senso. Veramente una spina nel fianco. Cioè, quello di lui. A posto, ragazzi. Ora non mi metto a fare anche l'altra sfida. Però sono contento perché l'ho ribaltata, diciamo. Quindi... Stasera mi sa che non streamo. Però comunque mi raccomando, ragazzi. Mettete la... La viso. La notifica, insomma. Quello che vi pare. Così che... O magari seguitemi su Instagram. Che magari ho cominciato... Cioè, in questi giorni a postare le storie. Quando streamo. Così almeno quando vado in live. Magari, se volete, passate. Ringrazio a... Ringrazio tutti... Quelli che ci sono stati durante Fortnite. Durante io. Ringrazio quelli che vi vedranno in past. Chissà, un giorno forse. E ci vediamo alla prossima. E poi vi do aggiornamenti sulla... Screen Capture. Così che almeno... Come siamo? La Capture Station. Capture Card. La Capture Station. La Capture Station. Insomma, vero lì. Così posso streamare anche... Tutto ciò che c'è sulla Twitch. In particolare, leggendo. Va bene, ragazzi. Vedo che la lucina della connessione si sta diventando rossa. Quindi direi basta. E ci vediamo alla prossima. Grazie ancora. E ciao.